Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Scusate per la qualità video non proprio eccellente, perché c'erano delle luci un po' strane lì e oltretutto c'era anche una musica a palla di sottofondo. Però adesso prima di lasciarvi il video lasciate un bel mi piace per il grande ospite e vi anticipo fin da adesso che domani uscirà il primo episodio di una nuova serie. Però adesso basta con la intro, vi lascio al pacco video. Spiella! Ma bella a tutti ragazzi, guardate con chi sono! Sono col bombecchio Mini Vinter. Non capisce niente di quello che dico. Comunque sono usciti un po' di pacchetti speciali qui dei foot della Bundesliga e li apriremo insieme. Siamo apriamo insieme. Il primo pacco, il primo pacco. Puoi andare prima. Il primo pacco. Vediamo le animazioni. Oh, no! Il primo pacco! No, possiamo fare meglio, possiamo fare meglio. Dove è? Dove è? Onde è? Dove è? A come abbiamo due? No, no! Non, solo una. Ok, vi può fare meglio di questo. È è un bollo fatto. E' un buon pacco. Oltre due! C'è un pacco. We all got the shoes, we all got the shoes to match! Yeah, yeah, yeah! Same shoes! I love my shoes! I think we can go... Surfboard! You ready? Yeah! Stretch! Vai! Oh! Oh! Not good! It's not a shit blue! We need another blue! Two more! Let's see what... No, no work! Last two packs! Ultimi due pacchetti ragazzi! This is the pack! This is the motherfucking pack! Same pack! What? Is it gonna be the same pack? What the fuck? I'm being cold! That's a terrible hack! What? Last motherfucking pack! We're doing it together! I'm gonna press the first one! Perfect! You click that! Okay! And then we both click it! Three, two, one! This is the one! The last one! The last one! The last one! Come on! Please! Please! No! That's the worst one out of all of them! What the fuck? That's so bad! What the fuck? I'm sorry! No! I'm sorry man! You're both together! So lucky guys! Don't worry! Don't worry! I'm so sorry man! That's shocking! I'll let it back! No! I don't know! I don't know! He ate me! Ok! Era l'ultimo! Signori! Con Simon abbiamo trovato un TOTS! Uno solo! Va bene! Si può fare! Ci accontentiamo! Va bene! È già tanto averlo ospitato sul mio canale! Non pensavo che saremmo mai riusciti a fare una cosa del genere! E' qualcosa di atroce! No 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 no! Ce n'è possibile! GELO DOVEVA PROPRIO FAR FARE! 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 Questo gol di merda! GELO DOVEVA PROPRIO FAR FARE! GELO DOVEVA PROPRIO FARE!